Se fossimo in un film, il premio per la migliore attrice non protagonista sarebbe dato ad Erodiade, figura femminile presentata come terribile e crudele, che ricorda un po' un'altra figura femminile che troviamo nel Primo Testamento, Jezebel, moglie di Acab, re d'Israele, che promette la morte a Elia dopo che quest'ultimo ha sgozzato 450 profeti di Baal. Il Vangelo di Marco apre il sipario su una vicenda molto intrigante, potremmo chiamarla, che interrompe la narrazione dell'invio da parte di Gesù dei discepoli in missione. C'è un governatore, un tetrarca, Erode, che Marco chiama re, ironicamente, perché ricordiamoci poi che Gesù sarà accusato di essere il re dei giudei. Erode si chiede chi sia Gesù e arriva alla conclusione che Gesù è Giovanni il Battista, re di vivo, resuscitato, che è una conclusione abbastanza stramba, ma che ci dice anche l'interesse che Erode aveva per questo personaggio e anche la sua riluttanza poi a farlo arrestare quando Giovanni aveva rimproverato Erode ed Erodiade del loro essere inconcubinato perché Erodiade era moglie del fratello di Erode, appunto Filippo. Insomma, una telenovela come nelle migliori tradizioni, che parte dalla contesa tra due fratelli della stessa donna. Qualche tempo dopo che Giovanni è stato messo in galera, Erode dà un banchetto e in questo caso è la figlia di Erodiade, di cui non sappiamo il nome, che danza. Noi sappiamo che il potere gioisce anche delle belle donne che danzano per i potenti, e così è anche nelle scritture. E quindi così, ammaliato dalla danza della figlia di Erodiade, Erode decide di regalarle quello che lei desidera. Lei si inconsulta con la madre e la madre trova il momento propizio per chiedere la testa di Giovanni Battista. Erode è perplesso perché tutto sommato ci teneva a Giovanni, ma come accadrà poi a Pilato con Gesù, anche egli ammaliato dalla figura di Gesù, è il fatto che ci fosse tanta gente, tanti testimoni, le domande sul proprio consenso, vinceranno sul proprio interesse a mantenere in vita una persona ritenuta innocente. Dunque, la testa di Giovanni che viene portata su un piatto, i suoi discepoli che vanno a prendere il corpo per portarlo nel sepolcro, ci ricordano però anche la passione che sarà di Gesù. Fin dall'inizio, chi legge, prima ancora che Gesù annunci la sua stessa passione, è testimone della contraddittorietà del potere politico, che dalla perplessità di Erode, che appunto poi sarà di Pilato, sceglierà la soddisfazione data dalla violenza e da chi l'ha chiesta, qui erodiade per Pilato la folla. Giovanni, così come Gesù, non sono presenti in questo testo, non dicono e non compiono nessuna azione. E' chi legge, ciascuna e ciascuno di noi, che è invitato a riconoscere in che modo la violenza si fa breccia, qui attraverso una danza che acceca, altrove attraverso la propaganda di volere il bene del popolo, di accontentare il popolo. Questo testo ci invita a riconoscere come dietro l'ordine, la sicurezza, che anche oggi sono così tanto sbandierati, ci possa essere desiderio di vendetta, di eliminazione, di quanti e quante invece sono disarmati e denunciano le guerre dei potenti.